Lei questa sera che cosa vuol fare? Lei in questo momento, come sa, ha in tasca quella somma che... Chissà cosa avrebbe detto Mike Buongiorno, il Rai dei Telequiz, davanti alla truffa che oggi ha portato 5 avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti ed ex dirigenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che hanno trovato il modo di guadagnare alle spalle di diversi giochi a premi della Rai, da Uno Mattina ai fatti vostri, dalla prova del cuoco ad Affari Tuoi, inventando un giro di false fatturazioni grazie alla rinuncia da parte dei concorrenti al premio in gettoni d'oro e alla scelta del corrispettivo in denaro. Una scelta permessa dalla legge, ma che porta ad una decurtazione del premio. Dell'Iva al 22% all'origine ed un ulteriore 5% convertendo l'oro in euro. Così 100.000 euro diventano poco più di 70.000. Il meccanismo prevedeva un contatto diretto dei concorrenti per sapere la loro scelta. In caso di rinuncia ai gettoni scattava la truffa vittima alla Rai. Gli indagati infatti non coniavano i gettoni, ma emettevano finte fatture come se lo avessero fatto. In questo modo accedevano ad un premio aziendale di riduzione dei costi di conio pari a 45.000 euro. I danni per la televisione di Stato ammontano a 700.000 euro. Dei cinque dirigenti raggiunti dagli avvisi di garanzia, tre sono in pensione mentre due ancora alla zecca sono stati assegnati ad altre attività.